Signor Sindaco, un inquinamento serio si è già capito perlomeno da che cosa è stato derivato o non ancora? No, al momento non c'è ancora questo tipo di informazione. Noi abbiamo avuto notizia di questo inquinamento di tipo chimico, chiaramente ciò ha creato la doverosa allarme. Sono scattate le misure di salvaguardia per la tutela della salute pubblica. Ma adesso c'è un'attività frenetica importante di ASL e di ARBAL per andare a individuare con maggior dettaglio quanto sta accadendo. La speranza è che da questo confronto che avremo fra pochi minuti possano emergere degli elementi in più per poter emettere poi ordinanze spero meno stringenti. Intanto sono stati messi autobotti e serbatoi nel territorio di Taggia e Arma. Sì, diciamo che abbiamo avuto una risposta direi efficace perché già dalle prime ore del pomeriggio abbiamo distribuito sul territorio comunale due autobotti grazie a Riveracqua, più ulteriori serbatoi in altre zone del territorio proprio per cercare di limitare al massimo quelli che sono i disservizi. Chiaramente l'auspicio è che tutto possa rientrare al più presto ma in ogni caso ci faremo trovare pronti. L'assessore Gian Pedrone e il Presidente Totti hanno detto che anche Protezione Civile è pronta a intervenire in caso di necessità. Sì, ho trovato subito un grande appoggio ma come sempre capita in queste situazioni da parte dell'istituzione regionale speriamo che non ci sia troppa necessità quindi davvero l'auspicio che possa rientrare al più presto questa situazione e in ogni caso come dicevo gli enti preposti sono tutti attivi tra cui Protezione Civile di Regione Liguria.